a ognuno i propri compiti comunque ci siamo stiamo bene Enea sta da Dio magna, dorme, magna, dorme, dorme tutto il giorno quindi noi ci siamo presi un po' di tempo per noi per goderci queste prime ore a casa da soli poste ospedale siamo tornati ieri sera nel tardo pomeriggio e giusto in tempo per la nostra prima notte insieme com'è andata? ha parlato in serpella per me vabbè è una questione di abitudine i primi giorni sono così portare pazienza serviranno per conoscerci per organizzarci per capire i nostri ritmi per un sacco di cose quindi tutto nella norma insomma comunque c'è da dire che lui è davvero un bimbo bravissimo quante cose devo ancora raccontarvi farvi vedere il nostro arrivo ieri con Nadine Gnomo ecco Nadine che vuole entrare se fai la cacca un'altra volta ti pulisci da solo tutto da solo impari non c'è la cacca un'altra volta ti pulisci da solo non c'è la cacca un'altra volta ti pulisci da solo non c'è la cacca un'altra volta ti pulisci da solo non c'è la cacca un'altra volta ti pulisci da solo non c'è la cacca un'altra volta ti pulisci da solo